Buonasera a tutti, si è conclusa da poco la seconda commissione consigliare, abbiamo parlato di bilancio di partecipazione o almeno quelli erano gli argomenti in ordine del giorno, in realtà per quanto riguarda il bilancio abbiamo deciso di rimandare ad una prossima seduta della commissione l'analisi del bilancio della casa di riposo Regina Elena, questo perché è stata comune la volontà di procedere a questa analisi alla presenza dello stesso assessore al bilancio e possibilmente anche del direttore della casa di riposo. Per quanto riguarda invece la partecipazione, tra i temi che abbiamo toccato sicuramente quello che merita, la maggiore attenzione che merita di essere il contenuto principale di questo breve reso conto è la proposta di adesione alla piattaforma Decoro Urbano www.decorourbano.org da parte del nostro comune, è un passaggio molto importante per quanto riguarda la partecipazione e per quanto riguarda lo stesso Decoro Urbano. Che cos'è Decoro Urbano? Decoro Urbano è una piattaforma attraverso la quale i cittadini potranno segnalare, facendo fotografie e brevi commenti, potranno segnalare situazioni di degrado o di incuria relative a che cosa? Relative ai rifiuti, relative alle aree verdi, relative a situazioni di dissesto stradale, segnaletica stradale fino alle affissioni abusive. Si tratta di un meccanismo attraverso il quale la filiera delle segnalazioni da parte dei cittadini che già adesso sono numerose ma poco funzionali a una loro gestione rapida ed efficiente perché a volte si perdono, magari sui social scatenano tanti commenti ma non sempre mettono l'amministrazione in condizione di poterle gestire in maniera efficace. Attraverso questo portale ci sarà la mappatura di queste situazioni di segnalazione, la presa in carico in tempi rapidi delle stesse segnalazioni da parte dell'amministrazione e ci sarà la possibilità da parte dell'amministrazione di esitare queste situazioni, quindi problema risolto, problema ancora aperto. Quindi è un modo con il quale noi vogliamo metterci alla prova, è un modo che secondo noi può far sì che tutti i cittadini attraverso una partecipazione attiva si prendano il più possibile cura del loro territorio e contribuiscano a far sì che il decoro della nostra città sia il migliore possibile ed è sicuramente un modo per stimolare appunto la cura del proprio metro quadrato. Alla prossima, ciao!